Una materia relativa, C.D.A., Entità A. Attraverso Corrado Piancastelli, 1995, Entità A. Tutto ciò che avviene indipendentemente da lui, come nel caso di manifestazioni umane, le quali, ancorché seguano le sue leggi, sono manifestazioni in cui si agita, una materia relativa, dà luogo a casi non perfetti nella loro esistenza applicativa. In questi principi di leggi relative sono compresi i compromessi spirituali. Attraverso i processi reincarnativi o da altre manifestazioni o tolleranze spirituali, che esistono però sempre nel campo relativo di queste manifestazioni, esistono queste diramazioni sottili, che pur fanno parte indirettamente della legge, ma che sono legate direttamente ai fenomeni più o meno localizzati nell'universo. Le leggi spirituali che si applicano all'uomo non sono quindi leggi perfette, né rigorosamente esatte, ma sono leggi che prevedono compromessi relativi. La necessità di ciò è l'elaborazione relativa che dà allo spirito una localizzazione universale. Al di fuori invece di queste leggi, man mano che lo spirito assorge, ad una concezione sempre più alta, incontra leggi sempre più rigorosamente giuste, che non sarebbe possibile applicare all'uomo senza condannare in blocco tutta l'umanità. Sulla Terra le leggi divengono più tolleranti, più umane. Si ispirano di più a quelle che sono le circostanze della materia e perciò della localizzazione universale. Una localizzazione può essere un ambito enorme, come ad esempio il sistema planetario solare. La legge perfetta di Dio raggiunge questo sistema, ma rallenta il suo ritmo esatto per applicarsi più agevolmente all'uomo. Questa diradazione dell'esattezza della legge è quella che l'uomo chiama bontà della legge, la tolleranza della legge. L'uomo la identifica come tolleranza divina, ma essa non lo è che indirettamente, in quanto il principio massimo di Dio è che la legge sia perfetta, ma che essa abbia comunque modo di evolversi o di plasmarsi a seconda delle necessità spirituali o delle possibilità spirituali. In relazione alla propria successiva evoluzione, lo spirito incontra questa giustizia sempre più precisa, sempre più rigorosamente esatta, mentre l'uomo, dal punto di vista umano, vi ravvisa queste tolleranze che gli sono date proprio per la sua fragilità, per la sua grande possibilità di errare. Allora, quando l'uomo ritorna spirito, questa legge appare già diversa e, man mano che lo spirito si perfeziona, appare sempre più diversa, non perché essa muti nella sostanza, ma perché muta nell'applicazione, nell'estrinsecazione, nella manifestazione esteriore e non intima. Continua.